buongiorno a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo velocissimo video sono qua insieme a voi perché è uscita la skin oro come già vedete e state vedendo ragazzuoli belli è uscita finalmente è uscita tutti se lo aspettavano vediamo bene gli stili stile re dorato e stile senza il bagliore ragazzi un po più scura leggermente più scura peccato che non me la fa vedere col suo backpack la vediamo qui bello anche il backpack avrà degli stili si c'è anche lui lo stile senza non scintillante l'ha chiamato non scintillante ragazzuoli andiamo a vedere il deltaplano perché è leggendario anch'esso e con esso dovrebbero uscire poi le sfide che ci daranno la copertura e il piccone ragazzuoli il deltaplano anche questo veramente veramente bello tutto dorato sicuramente non da pro play non da utilizzare nei torni ma veramente veramente bello e quindi ragazzuoli shop aggiornato oltre alle solite skin che c'erano già prima di oggi prima di adesso queste qua sono sempre le solite skin con la fantastica gelatine che io uso e mi piace veramente tanto per la sua ignoranza ragazzuoli belli video veloce 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 vi ricordo coach creator nome duke97 per supportarmi nello shop di fortnite accettate e riaggiornate ogni 14 giorni io vi lascio con questo bel 360 molto lento e suave della skin del re manto radioso ragazzi skin manto radioso il backpack di questa skin oro bella veramente bella peccato che costi 2 mila v bucks buona continuazione a tutti ciao ciao